Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Sono Valentina e mi sono laureata in magistrale matematica di Insubria l'anno scorso. Consiglio la magistrale all'Insubria perché mi ha dato la possibilità di seguire corsi che mi interessavano e corsi che mi potevano essere utili nell'ambito lavorativo. Non solo, mi ha anche aiutato a trovare il posto di lavoro in cui sono attualmente. Mi ha dato la possibilità di costruire un ambiente familiare dove ogni giorno imparo qualcosa di nuovo sia dall'ambiente in cui mi interfaccio, quindi con i clienti, sia grazie ai colleghi con cui lavoro ogni giorno.